Il Paradisi delle Signore 9, puntate settembre, Marcello ha un ufficio in negozio. C'è grande attesa per le nuove puntate del Paradisi delle Signore e nella nona stagione, in onda da settembre, Marcello Barbieri sarà ancora presente. Nella giornata di mercoledì 22 maggio, Pietro Masotti, che presta il volto al fratellastro di Matteo Portelli, ha mostrato una parte del copione. Dove erano indicate le location delle scene da girare, annunciando che il suo personaggio avrà un ufficio nel negozio. Marcello ha un ufficio tutto suo a Il Paradisi delle Signore e l'ottava stagione della sua opera terminata con un passaggio di testimone, perché Vittorio Conti aveva lasciato nelle mani di Marcello e Roberto Landi le redini del negozio. Nelle puntate che andranno in onda sul piccolo schermo a settembre, Barbieri avrà un ufficio tutto suo nell'atelier. Pietro Masotti, nella serata del 22 maggio ha condiviso sul suo account Instagram le location di un copione delle nuove puntate della fiction. Fra i luoghi c'era anche Ufficio Marcello e per fare notare il dettaglio ai suoi follower, l'attore ha scritto sui social, Abemos Ufficio. La Galleria Milano Moda continuerà a essere antagonista del negozio di conti fra le altre cose che possono saltare all'occhio dalla storia Instagram di Pietro Masotti, c'è un altro dettaglio interessante. Pertanto, il negozio guidato da Umberto Guarnieri e Tancredi di Santerasmo continuerà a dare del filo da torcere al Paradisi delle Signore. Anche nelle puntate di settembre. Sul copione, infatti, c'è anche una scena da girare nella Galleria Milano Moda. Marcello avrà delle scene da girare, oltre che nel negozio di moda dei concorrenti, anche nello studio di Villa Guarnieri. Pertanto, Barbieri continuerà a frequentare l'abitazione della contessa Adelaide e del suo acerrimo nemico Umberto. Marcello non sa che Matteo è coinvolto nella truffa nel finale della soap. Marcello ha ottenuto un incarico importante da Vittorio Conti, che gli ha affidato la guida del suo negozio di moda. Inoltre, Barbieri è riuscito a ritrovare l'intesa con Adelaide e la coppia ha deciso di mettere da parte tutte le remore sulla differenza di età, tornando insieme e facendosi vedere in pubblico. C'è però una vicenda che non si è risolta negli ultimi episodi della fiction, perché Marcello ha solo scoperto di essere stato truffato da Offere e Umberto, non venendo a sapere che, dietro all'inganno ai suoi danni, c'era anche Matteo. Danilo D'Agostino, che presta il volto a Portelli, è confermato nel cast e, pertanto, i due fratellastri potrebbero avere un faccia a faccia, se la verità dovesse venire a galla.